Salve a tutti, io sono FafuFafuA4 e quest'oggi parleremo degli oriperidi. Sono degli esseri che sono vissuti dall'Ordoviciano al Permiano e sono stati ritrovati in tutto il mondo. Erano creature acquatiche di tanto tempo fa ed erano lunghe circa 2 metri. Pesavano 5 tonnellate ed erano onnivori. La mutazione del corpo cambiava da quando erano piccoli fino all'età adulta e dopo molti scienziati potevano riconoscere il sesso dell'animale da queste pinne qui. Per esempio se era maschio oppure se era femmina. Per questo video è tutto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!